La mia posizione sul petrolio è in questo momento in perdita, oggi andiamo a vedere in questo video quindi un aggiornamento su questo long che ho in essere dal 28 marzo. Benvenuto e ben ritrovato, io sono sempre Damiano Zito, price action trader indipendente, membro e collaboratore di questa community e questa professioni trader, la rubrica dove settimanalmente racconto il mio diario di trading su un conto reale da 10.000 euro che ho aperto come fase esperienziale del percorso di accademia che ho intrapreso in Airforex. Bene, questa è sempre la mia posizione sul petrolio, una posizione che ho aperto ormai dalla fine di marzo, quindi dal 28 di marzo, l'ho raccontata già su due video precedenti in questo canale, eventualmente ti invito ad andare a rivederli, comunque è una posizione che ha un entry su questo livello, quindi la prima posizione in realtà sul livello di 82 a 41, eccola qui, l'ho splittata con il tool di Pro Real Time, quindi ho un primo ingresso a 82 a 41, poi ho fatto un incremento a 86 e 50, quindi in realtà sono in questo momento a brecchimento sulla prima posizione e in perdita, diciamo a un costo non realizzato in questo momento sulla posizione di incremento. Allora, che cosa sta succedendo, che cosa ho fatto, che cosa sto facendo su questa posizione? Al momento, dopo il forte ritracciamento, non ho fatto nulla in termini di gestione operativa per questo trade, perché dopo il mio incremento a 86 e 50, avevo già fatto una prima, come dire, un primo cambio di stop, quindi ho spostato lo stop da i 74 e 90 ai 78 e 80, quindi ho gestito la mia posizione in maniera tale da mantenere i miei 250 euro iniziali di rischio, che ricordo erano tra 82 e 41, 74 euro e 74 e 90, ho investito i miei 250 euro iniziali e successivamente dopo questo incremento ho spostato questo stop a 78 e 80, quindi incremento 86 e 50, ho una posizione iniziale 82 e 40, lo stop di entrambe le posizioni si sposta a 78 e 80 per un totale anche qui di circa 250 euro, ok? Quindi ho 250 euro che sono quindi la somma di queste due posizioni sullo stop a 78 e 80, bene, quindi questo è il rischio che in questo momento ho su questo mercato. Che cosa sta succedendo? Come si sta muovendo il petrolio? Allora, io avevo fatto questo incremento praticamente sulla nuova conferma che era avvenuta su questa zona degli 85, dopo la rottura e rialzo di questo pattern grafico che è un inside fake out e che poteva portare a rialzo il mercato, io quindi ho fatto questo incremento, ma nella giornata già di venerdì che cosa era successo? C'era stata questa pinbar che però non faceva falsa rottura di questo massimo, l'abbiamo vista nel video passato, ho visto i ragionamenti che stavo facendo nel video passato, c'era stata poi la tenuta con questo ulteriore pinbar che teneva praticamente il livello, quindi i minimi precedenti, c'è stata quindi una falsa rottura e invece il mercato poi è andato giù. Ora, il mio stop a 78,80 fondamentalmente mi ha fatto rimanere in posizione anche perché questo trade ha una view molto ampia anche in termini di tempo, il mio progetto iniziale prevedeva di rimanere anche due o tre settimane all'interno di questo mercato, chiaramente a livello di progetto, il progetto è un progetto long, non progetto di andare short, quindi questo tipo di dinamica è una dinamica contraria al mio progetto di trade, ma che rientra all'interno della gestione con l'uso di uno stop ampio. Gestione nel senso che lo stop ampio mi permette comunque di ragionare su quelle che sono poi le dinamiche contrarie di prezzo e proteggermi da una reazione istintiva, emotiva sul mercato. Che cosa succede? Chiaramente questi sono dei movimenti che se vogliamo sono pesanti, ma per ragionare, siccome la price action e lo studio del prezzo è uno strumento che utilizzo per ragionare sul mercato, che cosa succede? Che se lo andiamo a vedere sulla figura settimanale, siamo su una figura che aveva appena rotto la zona praticamente 8082, che è questa zona qui, con questa candela, quindi nel momento in cui lui ha fatto la candela di rottura, ero consapevole del fatto che il prezzo potesse in qualche modo ritracciare anche in maniera più profonda e andare a testare di nuovo la zona di ex vendita e poi tornare long. Nel momento in cui si è venuto a creare la price action short sul daily, quindi l'invalidazione della tenuta di questo pavimento, c'è stato poi una rottura al ribasso, un ritorno e ancora una pinbar, anche qui non fa falsa rottura, ma che è contraria in questo momento al trend del settimanale, comunque mi ha fatto pensare a due cose. Uno, mi sono chiesto, questa pinbar la traderesti così alla rottura sell stop? No, questo perché chiaramente ho bisogno prima di tutto di una convalida, quindi che in questo momento c'è stata ed effettivamente nella giornata proprio di ieri, 22 aprile, il mercato è andato giù, ha rotto, quindi al ribasso il minimo di queste candele, il minimo della settimana precedente, quindi tecnicamente questo è un segnale di trading che è stato convalidato. È chiaro che adesso possono avvenire diverse cose che io non posso chiaramente prevedere, però posso mettere in campo alcuni scenari. Dal punto di vista di chiusura settimanale, sarebbe ideale per il progetto del mio trade una chiusura praticamente sopra 84, certo 85 sarebbe l'ideale, però questo perché? Perché il mercato appunto si trova in questa tendenza long, molto direi molto chiara adesso, siamo in questo tipo di tendenza e una chiusura 84 significa una cosa del genere, una chiusura 85 ancora più alta chiaramente significa avere questo tipo di setup long intendo. e quindi lo rifaccio, quindi bianco magari, ecco una cosa del genere, ok? Significa una chiusura settimanale sopra 84 sarebbe addirittura dopo questa rottura una conferma del long con un trigger operativo sul settimanale long. Se andiamo a vedere quello che sta succedendo nel breve, c'è stato un aumento di volatilità, questo è chiaro, un aumento di volatilità a ribasso con un rifiuto di area 85 che al momento sta tenendo invece l'area 81. Area 81 che non è un'area in qualche modo che non ha significato, ma è un'area dove effettivamente nel movimento che c'è stato di rialzo da questi minimi è l'area dove il prezzo aveva fatto base ed è l'area di ultimo vero swing da parte del mercato. Quindi qui c'è stato questo consolidamento, ma l'ultimo swing effettivamente era in questa zona, diciamo area 80-81. Quindi questa è un'area che chiaramente se dovesse il mercato perdere, quindi rompere a ribasso, quindi tornare qui giù, andrebbe comunque a colpire probabilmente il mio stop e quindi io esco, come dire, completamente dalla mia posizione. Se per esempio già oggi dovesse crollare il prezzo, non avrei modo comunque di gestire probabilmente la mia posizione e andrà a stop così come da posizionamento. Se invece il mercato dovesse tornare su, qui chiaramente potrebbe fare qualcosa del genere. Oggi siamo a martedì, insomma ci sono ancora giorni affinché questo mercato si muova e quindi possiamo poi andare a vedere la chiusura di settimana. Però se dovesse fare qualcosa del genere, poi anche qui tornare nuovamente short, la settimana probabilmente chiuderebbe a quel punto ribassista e quindi vuol dire che il prezzo probabilmente ha bisogno di andare ancora a, come dire, creare un'ulteriore conferma di questo long, anche perché ritorneremo magari all'interno di questo grande range, quindi all'interno comunque della struttura di vendita, quindi tornare al di sotto di zona 82 significa tornare all'interno del range e quindi all'interno anche di questa zona che era di vendita e quindi è possibile anche vedere il prezzo magari più in basso, verso zona 76 nel giro di una o due settimane. Quindi a quel punto non ha più senso mantenere il mio trade. Però avere lo stop ampio mi permette in questo caso di ragionare, quindi torniamo al punto di prima, sto ragionando su come agire. Al momento però la price action è una price action che mi dice che qui abbiamo una zona, che è la zona 81, che è una zona praticamente di, appunto come dicevo prima, di ultimo swing, una zona di ritracciamento importante, dove effettivamente il prezzo era risalito e qui ci potrebbe essere la tenuta e quindi è la zona da monitorare. Nel momento in cui il prezzo la perde, è invalidato completamente il mio progetto. Se invece da qui adesso fa uno, due, tre giorni, quattro giorni e poi magari il ritorno long, magari si chiude la settimana come dicevamo prima, allora siamo in quella condizione di poter, come dire, gestire ancora questo trade nell'ottica di quello che era il progetto iniziale. Per quanto riguarda quindi questo trade al momento, non sto facendo nuove mosse, non ho fatto nuove mosse operative, chiaramente per via del fatto che non ci sono i presupposti per farlo. Ho questo, quindi questo stop a 78,80, non avevo messo il limite, quindi il target di posizione, chiaramente avevamo questa zona di massimi precedenti che era la massima, secondo me, zona, il punto massimo di arrivo dove eventualmente comunque andrei, dovesse andare a, il prezzo ad essere, come dire, quotato. Se va a quotare questi livelli andrei sicuramente a chiudere. La zona, diciamo, precedente da fare attenzione è quella che originariamente avevo detto essere un possibile mio target iniziale, perché, se lo andiamo a vedere, era anche il, la zona, è un livello di prezzo, in realtà, che è la zona, diciamo, poco sotto i 90, quindi questa zona di 89, 89,60, comunque poco sotto i 90, era praticamente confluente, quindi con questo massimo, questo livello, e quindi, diciamo, anche livello tondo, più o meno, era praticamente il T3 di questa dinamica che ormai sto seguendo praticamente da inizio anno, dal trimestre del 2024 e che effettivamente ha portato su il prezzo questo movimento qui a questa, diciamo, questa dinamica che poi porta appunto a una confluenza con quest'area tonda. Poi, chiaramente, ci sono livelli un po' più in alto, stiamo parlando di 96, sarebbe, se noi, questo, per noi, questo è il nostro target 5 di un eventuale setup, qui abbiamo questo T6, ma comunque il mio trade non andrebbe, non andrebbe oltre 92, probabilmente, ok? Anche perché, insomma, sono dentro da diverse settimane e non faccio investing sul mercato. Quindi, da questo punto di vista, sono sempre long ancora su questo mercato. Anche il mio piano operativo questa settimana rimane long sul petrolio, rimane da capire effettivamente se la zona 80, 81 è una zona che il mercato ha voglia di riacquistare, a questo punto è una zona importante e quindi andrò a vedere come chiudo la settimana o eventualmente andrò a gestire su un'eventuale price action di conferma short di questo, di quest'ultimo, diciamo, movimento che ha portato un po' di ribasso sul mercato. Un'ultima nota riguarda il fatto che effettivamente questo rialzo, una considerazione che avevo fatto un po' su questo mercato, era avvenuto in maniera tale che, a parte ecco qui, c'è stato sempre, come dire, nell'ultimo periodo, un rialzo un po' a gradini e sembra che avesse un po' bisogno effettivamente di fare un eventuale, come dire, ritracciamento un po' più corposo, anziché dei consolidamenti prima di tornare al rialzo. Quindi potrebbe essere questo, diciamo, uno scenario che chiaramente è sempre in linea col mio piano operativo su questo mercato, uno scenario poi di continuazione long. Quindi, anche per oggi, direi, insomma, non ci sono grandi novità dal punto di vista operativo, non ho in questo momento altri trade in atto, questo è sempre il mio diario, in questo momento sul mese di aprile non ho, e quindi sul nuovo trimestre, sul Q2, non ho aperto nuove operazioni, le uniche operazioni, l'unica operazione che ho in atto in questo momento è l'operazione sul petrolio, che ho aperto il 28 marzo, e quindi attenderà di essere poi consuntivata all'interno del mio gestionale. Quindi 10 trade su questo trimestre, 10 trade che, insomma, si chiuderanno chiaramente nel momento in cui si chiuderà la mia posizione sul petrolio. Quindi anche per oggi è tutto, io ti invito sempre a continuare a guardare i video su questo canale, se ti piacciono questi video lascia chiaramente un mi piace, puoi rivedere i video di questa rubrica nella playlist dedicata, e ti ricordo inoltre che c'è anche una playlist dedicata alla price action, se ti interessa questo metodo, con approfondimenti tecnici anche molto avanzati, così come anche delle pillole di trading interessanti e sempre valide per fare i trading sui mercati con il nostro metodo. Quindi per oggi è tutto, io ti ringrazio, ti saluto e ti auguro soprattutto buon trading. Ciao!